Ciao Matteo, Enrico Fanelli, Perugia Sudetti, Foglifo, ti chiedo tu questo punto come lo giudichi insomma? Io lo giudico in base a quello che ho visto, cioè è stata una bella partita con un ambiente speciale e abbiamo un po' sofferto però siamo stati uniti, compatti, abbiamo concesso poco e un punto ci va bene. Una battuta conferrante, vi siete scambiati i numeri di telefono alla fine perché eravate abbracciati, siete stati abbracciati per metà partita. Con le magliette che arrivavano ai capelli, è stato un duello fisico però anche bello, anche se alla fine eravate stanchi tutti e due. Sì, è stato un gran duello con un giocatore come lui, è stata un'emozione fantastica tutto quanto dal primo momento che sono sceso in campo e sono molto contento di questa prestazione. Senti, dopo alcune partite che non sei stato impiegato in queste ultime tre se non sbaglio è tornata la tua ora insomma e credo che tu soprattutto oggi non abbia sfigurato insomma. Ti chiedo appunto come procede, tu che sei molto giovane insomma, come procede l'ambientamento in questo gruppo? Io guarda mi sono sempre trovato benissimo dal primo giorno, anche quando non avevo spazio ero comunque contento di far parte di questo gruppo perché veramente sono tutti dagli più giovani ai più anziani soprattutto, sono tutti amichevoli, ti aiutano, ti caricano, anche quando c'è un momento diciamo down, ti stimolano sempre a lavorare duro e non mollare mai e lavorando, 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 mi sto ritagliando il mio spazio. Ok, a posto, grazie. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.